Il mondo della scuola si prepara ad una manifestazione importante il 7 ottobre perché le sottolineature da fare sono ancora, purtroppo, ancora molte. Molte le sottolineature da fare, un sistema scolastico che è ripartito a settembre con vecchie criticità, vecchie e nuove criticità, in particolare la mancanza di risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro che sono lo strumento indispensabile per la valorizzazione professionale e quindi anche per la qualificazione dell'offerta formativa ma criticità che riguardano anche, per esempio, le condizioni di lavoro. Ricordo che nel settore scuola abbiamo oltre 200.000 lavoratori e lavoratrici a tempo determinato con contratti al 30 giugno e al 31 agosto e questo chiaramente non solo compromette le prospettive di vita la progettazione delle proprie condizioni familiari, personali, dei lavoratori ma compromette anche la continuità e la qualità del sistema di istruzione. Particolarmente pericolosa per il sistema di istruzione sia quello che sta avanzando in materia di autonomia differenziata, un progetto che rischia di ancora approfondire le disuguaglianze tra i territori del nostro paese. Hanno nuovo problemi vecchi e di fatto infatti mancano tantissimi collaboratori scolastici all'interno delle scuole. Le problematiche sono numerose perché soprattutto in quelle scuole che hanno diversi plessi dislocati in più comuni perché essendo istituti comprensivi ovviamente sono dislocati in più comuni e quindi mancanza di personale proprio per far partire le attività base della scuola che può essere una mensa, che può essere l'apertura della palestra. Altro personale che manca, il personale sono gli insegnanti di sostegno per il quale ci sono comunque degli insegnanti che vengono dati in deroga ma vengono comunque dati successivamente o comunque non garantiscono continuità ai bambini e alle bambine diversamente abili che in realtà avrebbero bisogno di più attenzione.